Al comando delle operazioni c'è McLaren OR che assume l'iniziativa, c'è a largo anche il numero 4 di Mercury Daini, però sbaglia e quindi in avanti McLaren OR, McLaren Nerede Jet che è filtrata assai bene nella seconda fila, poi il numero 2 di Matai Vita, quindi a largo c'è Mondello R, I Love di Jesolo, Mistra poi il numero 8 di Metello, in avanti McLaren OR Nerede Jet, quindi Matai Vita, McLaren che ora cerca un po' di addormentare il ritmo, a largo c'è sempre Mondello R, quindi in seconda posizione Nerede Jet spettatrice assai interessata, quindi il numero 6 di McLaren, poi c'è Nerede Jet, ancora Mondello R a largo di Matai Vita, Nerede Jet che ora appara l'avanzata di McLaren, quindi è l'OV di Jesolo, in avanti McLaren OR, ancora Nerede Jet, quindi c'è Mondello R, ancora Matai Vita, quindi Mistra, a largo c'è la progressione esterna di Metello che viene via a largo in terza ruota, cerca la gancia in avanti, intanto McLaren che controlla la situazione, Nerede Jet che ora appara l'avanzata di Metello, intanto in avanti McLaren OR, Nerede Jet, quindi Metello a largo, in avanti McLaren OR, poi Nerede, McLaren che prova la fuga dagli avversari, con Nerede Jet, poi Metello a largo di Matai Vita, in avanti McLaren OR, poi c'è ancora Nerede Jet, quindi Metello a largo di Matai Vita, in avanti McLaren OR, McLaren che prova la fuga da Nerede Jet, quindi Nerede Jet che ci prova a largo, Nerede Jet nel tratto conclusivo prende vantaggio e viene a vincere Nerede Jet nei confronti di McLaren al terzo posto. il numero 2 di Matai Vita.